Sono venuto a conoscenza della cosa, ho seduto a tavola con la mia famiglia, ho saputo che ero stato sospeso e decine di milioni in un periodo di massimo ascolto hanno associato il mio nome, il mio comune, la mia figura a chi lega pazienti in coma su barelle oppure le affama, visto che io le ho segnalate in quella lezione che giustamente avete sintetizzato di oltre 30 pagine, io faccio uno studio con i miei collaboratori che ringrazio fin da ora approfondito proponendo anche una serie di soluzioni nel dettaglio molto precise, soluzioni che per essere presa hanno bisogno di una forte direzione, ci vuole qualcuno che queste decisioni le prenda perché insieme a risorse finite, se si spostano risorse da una parte all'altra dell'ospedale, molta gente se ne risente, per evitare questo noi ci troviamo nella condizione che io già segnalavo in quella relazione, ma non è la prima, ce ne sono molte altre negli anni precedenti, alle quali abbiamo cercato di contenere questo fenomeno, quando siamo arrivati a quel punto ho presentato anche le nostre proposte di soluzione, quindi uno studio di affidabilità e manageriale che doveva essere messo, secondo me, doveva essere sperimentato un po' più a fondo.